Grazie Il tema della reattività, il tema delle aree interne Il tema dei servizi agli anziani Che fa il ritorno asiato La questione è che bisogna essere affrontare Con molta concretezza e penso che La risposta è una unica proposta E metto insieme La proposta è un'idea Questo è un messaggio con cui rassicuro L'elettorato politico del suo impegno Sì, io sono sicuro adattare Alla gente, restarci, ascoltare Cosa che ci sto facendo Ho visto già forse 15 sindaci Ma io voglio toccare Tutti e 136 comuni Che siano di maggioranza Che siano di polizia, che siano di centrodestra Non è importanza Capire quali sono i problemi della gente E cercare di essere più concreti possibili Soprattutto in questo momento Di difficoltà che vive La gente italiana